Il film L'amore non crolla mai, opera prima del regista Roy Geraci, coprodotto dalla Panormous Picture e dalla Cinema International Communication, sarà la prima pellicola ecosostenibile. Si tratta del primo ecofilm, infatti, per il cinema, sul tragico terremoto dell'Aquila, come annunciato in conferenza stampa nella sede del comune a Villa Gioia, dal regista Geraci, dallo sceneggiatore Brigugno e dal produttore Colombo. La storia in cui è l'amore, il sentimento che traina la vita superando la distruzione, si svolge tra passato e presente, dalla strage nazista di Onna nel 1944 al terremoto del 6 aprile. È la gente comune a raccontare emozioni e vissuto. L'amore non crolla verrà girato tra l'Aquila, Onna e Scoppito, sei settimane di riprese e quattro di preparazione, occasione di lavoro per tanti aquilani che faranno parte del casta di figuranti ancora da selezionare. La produzione del film, concentrato sulle operazioni di soccorso e sul popolo, si avvale della collaborazione di tutti i corpi e le associazioni che hanno operato nella fase dell'emergenza. Inoltre, il film verrà scritto in futuro a numerosi festival cinematografici in Italia e nel mondo, tra questi il film Festival Australian. Però il film ha lo spirito di raccontare la ricostruzione, l'emergenza, il soccorso e le energie di questo popolo che ha saputo ben valorizzare il sentimento che spinge la vita, che è l'amore. Una trama che vuole raccontare esperienza di vita vissute veramente, ci spiega lo sceneggiatore Domenico Brigugno, siciliano come regista. Ricordo ancora, dice, i racconti tramandati per decenni del terremoto di Messina. Mia nonna rimase sepolta sotto le macerie per 15 giorni, soccorsa poi dai militari russi. Da questa esperienza brutale, da questa esperienza traumatica, da questa esperienza definitiva, perché si tratta in questo caso di natale come tutte le certezze di una vita vengono spezzate nell'arco di una notte, bisogna assolutamente ricostruire e ricostruire su nuove basi. Aspetti contrattuali ancora da definire, accordi per la distribuzione che non si dicono per scaramanzia, così il produttore del film L'amore non crolla, Giuseppe Colombo. Ho già ottenuto una lettera di distribuzione, da una distribuzione abbastanza importante. Parallelamente c'è una trattativa in corso con un grande gruppo. Inoltre c'è la possibilità di coinvolgere un altrettanto importante gruppo tedesco.